Qui siamo, Sara Scalia, benvenuti! Prima di tutto, parliamo del team, quale performance per Campobasso e quale start of season per Campobasso. Quattro vinci, quattro vinci in errore. Cosa puoi dire di oggi e di start of season per Campobasso? Sì, credo che l'inizio importante di stagione filmato da Campobasso sia nasca nella pre-season, abbiamo fatto una grande pre-season, abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito bene in pre-season e credo che si veda in campo. La squadra è una bella chimica, lavoriamo bene insieme, giochiamo bene insieme, c'è intesa. Veramente è un grande piacere far parte di questo team. Now let's talk about you, what a show. You showcased your incredible talent, your skills. 70% on three points. What about you, what about your performance? You're a great, great talented player. Sì, credo di essere cresciuta soprattutto nella seconda metà di gara, nella seconda parte sicuramente ho trovato il mio ritmo. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno aperto la strada, hanno disputato un grande primo tempo. Io ho cercato nel secondo tempo di dare il mio contributo. Mi sono sentita bene in campo e posso essere sicuramente soddisfatto di quello che ho fatto.